ogni volta che mi immergo in apnea vivo una sorta di allunaggio perdo completamente la mia dimensione terrestre la pelle non è più barriera difesa limite la percezione del confine corpo acqua si modifica non è più una ricerca del limite ma una ricerca del ascoltare incidente con filippo a scatto che molte volte a cuore sapere fatica a trattenere riuscire per una manciata di secondi abbastanza perso psicologicamente il respiro è regolatore delle nostre emozioni la vittoria era fondamentale è più riemerso andare sulla tua testa devo evolvere riabilitare dovevo iniziare a lavorare su me stesso grazie a tutti